partiamo subito dalla prima new entry che è il calendario d'avvento di amabile e tiriamo fuori il contenuto della quinta casellina qui abbiamo un qr code la scatolina e della carta oddio raga impazzisco questo è un orecchino già l'ho visto su tiktok a forma di fiocco di neve e non potete capire quanto brilli la seconda new entry è quello di douglas apriamo la quinta casellina e abbiamo un bell'ombretto shimmer dorato passiamo a quello di cheers vediamo che foto ci sarà nella quinta casella qui era il compleanno di un mio amico a santa martia di taligure bellissimo ricordo la casella di clinic è abbastanza grossa vediamo che c'è dentro uno struccante mini size sempre molto utile per quando si viaggia passiamo ora a sefora c'è la quinta casella all'interno c'è una mini size del loro mascara molto carino questo l'ho provato ed infine vediamo cosa ci riserva nyx uno spray fissante mattificante da mettere dopo aver concluso il makeup casella preferita di oggi amabile fatemi sapere la vostra ragazzi sono felicissima di dirvi che fino al 30 dicembre sarà presente in corso garibaldi a milano un'edicola totalmente brandizzata disney plus è veramente stupenda e la cosa bellissima è che qui potrete acquistare le card abbonamento da 3 a 12 mesi quindi